Bentornati a tutti ragazzi, è il 20 novembre 2024 e sono passati esattamente 40 anni dalla prima pubblicazione di Dragon Ball in Giappone. Era il 1984 e la prima pubblicazione italiana purtroppo da quando è morto il maestro Akira Toriyama e quindi assume un significato particolare dopo tutto questo tempo. La Gazzetta dello Sport ha quindi deciso di ripresentare un'edizione che conosciamo già abbastanza bene e che permetterà a tutti di recuperare l'essenza del manga del Sensei. Andiamo adesso nello specifico a trattare di questa nuova collana. Ragionando in primis del prezzo sono 4,99 euro, 5 euro per l'appunto ogni volume, saranno 42 uscite totali con periodicità settimanale e alla fine di questo percorso si arriverà a settembre 2025 con un costo complessivo di 209,58 euro, qualcosa del genere. Sì, lo stiamo calcolando in questo momento e dobbiamo dire che il prezzo ci ha stupito perché rispetto alla Evergreen Edition che è uscita nel 2011 addirittura, che è l'edizione che possediamo, all'epoca il prezzo era di 4,20 euro considerando che sono passati più di 10 anni. Beh ragazzi direi che è un'alternativa economica assolutamente interessante per la Perfect Edition che dovrebbe essere l'altra edizione ancora disponibile e rispetto alla Evergreen è leggermente più alta, infatti possiamo fare un confronto con un manga qualsiasi, qua abbiamo Dr. Slump sempre di... Per restare a tema del Dragon Sharon in copertina. Sì esatto e possiamo fare un confronto d'altezza perché sì è un volume sottiletta ma dovrebbe essere alto più o meno come la Evergreen Edition della Star Comics, vedete che c'è comunque uno stack e quindi permette tutto questo di godere al massimo delle pagine. Oltretutto ogni volume ha legato una bellissima cartolina che sarà differente da volume a volume appunto. Esatto, mentre questo poster molto figo che potete appendere in camera è possibile d'acquisto soltanto con il primo volume. Questo primo volume recupera tutte le vicende relative all'incontro con Bulma fino alla comparsa dello stregone del toro e nel frattempo potete assistere alla prima apparizione di personaggi fondamentali per la prima parte della trama come possono essere Kiki, Olong, lo stesso Yanko o Yamcha per chi vuole essere un purista assoluto del manga. Perché tutte queste informazioni? Per comprendere che tantissimi di noi sono affezionatissimi all'anime, noi compresi, ma il ritmo che proponeva Akira Toriyama nei propri volumi era totalmente differente. Stiamo parlando di 42 uscite dove sono comprese tutte le vicende dalla prima ricerca delle sfere del drago fino allo scontro con Kid Buu, quindi alla fine di Dragon Ball Z che era divisa in questo modo proprio nel cartone animato. Chiunque volesse comprendere effettivamente il valore, la capacità narrativa del maestro Toriyama dovrebbe assolutamente prima o poi leggere il manga e questa è la vostra occasione ragazzi. Alla fine di ogni volume troverete una galleria speciale dei frontespizi con tutte le copertine originali delle varie edizioni e oltretutto una specie di approfondimento dove il maestro Toriyama andava a rispondere a quelle che erano le domande più specifiche dei loro fan. Sì, un archivio storico assolutamente indispensabile, oltretutto non è che questa edizione spicchi per contenuti esclusivi perché per quelle ricordiamo che ci sono la Evergreen e la Perfect se riuscite a recuperare tutto quanto. La tenuta del volume è certamente ottima, flessibile, le pagine tengono bene almeno questo ci è capitato di osservare nello sfogliare il primo volume che abbiamo appena acquistato e un solo appunto che ci sentiamo di fare, noi abbiamo appoggiato letteralmente la parte bianca quindi il retro copertina sul poster interno oltretutto alla prima uscita e si è subito macchiato sappiamo che insomma non è un problema, intanto sto cercando di mettere a fuoco oh finalmente, non è un problema esclusiva di questa edizione anche l'Evergreen Edition ci ha dato diversi grattacapi con le macchie fateci sapere però se tutto sommato intendete recuperare questo che dovrebbe essere il manga presente in ogni tipo di libreria e se intendete recuperarlo con l'edizione della Gazzetto con qualche altra collana precedente e noi come sempre ci vediamo al prossimo video a presto